Io ho realizzato nel corso del tempo E sono stati fuori il mondo Qui abbiamo un gorilla a calappi a polli Che cavalca una pantera con le scarpe chiodate E lo stesso dice, ho pretta pretta sanno Ed è tutto qui Con carta normale Con carta solda Con cui ho fatto Allora Qui abbiamo Che non si scioglie Si, qui abbiamo Dio scusa La quarta presentazione sarà a testa E' un esempio già come si lavora da casa si porta l'ipad e lui che mola soffi Potremmo Con carta Oggi Revegui Perremmo Pagina Questa Sì, vabbiamo. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.